Un rinnovato saluto a tutti voi, dunque due marocchini sono ricercati dai carabinieri di Licata perché ritenuti gli autori un tentativo di violenza sessuale su una giovane romena, la ragazza è stata aggredita mentre a piedi percorreva la strada per rientrare nella propria abitazione nel quartiere Sette Spade, è stata bloccata da due energumeni che l'hanno spinta verso un portone e hanno tentato di strapparle gli slip per poi violentarla, ma la romena ha avuto la prontezza di reagire cominciando dapprima a gridare e poi a liberarsi dalla mossa dei due, si è messa a correre fino a quando non ha raggiunto il centro dove ha chiesto aiuto, poco dopo si è recata in caserma e a sporto denuncia. Importunava la gente a Largua Osta a Canicati chiedendo l'elemosina, un nigeriano incensurato di 24 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri per tentata estorsione dopo essersi rivolto anche a due militari in borghese nella zona, lo straniero dovrà rispondere anche di resistenza e violenza pubblico ufficiale perché quando gli è stato chiesto di fornire i documenti di riconoscimento si è scagliato contro il carabiniere prendendolo a calci. Un Empedoclino di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Crispi nella zona Cannelle a Porto Empedocle, l'uomo viaggiava a bordo di una Vespa che si è scontrata con un'auto Peugeot 206, sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote l'Empedoclino ha sbattuto il viso contro la vettura, subito soccorso è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio di Evigento, non è in pericolo di vita ma a causa delle ferite riportate in viso si è reso necessario il trasferimento all'ospedale civico di Palermo, i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Un pensionato argentino di 76 anni, Giuseppe Misseri, è stato trovato cadavere ieri mattina sulla banchina del porticciolo turistico di San Leone, sono stati alcuni il corpo dell'uomo alla polizia, secondo una prima ricostruzione dei fatti il pensionato era impegnato a pescoli più vicino agli scogli quando sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, sul posto si sono recati i poliziotti della sezione volanti della questura e il medico legale Gianfranco Pullara che ha effettuato l'ispezione cadaverica. Un 18enne di Campobello di Licata è ricoverato in ospedale a Palermo dopo una rissa avvenuta a Licata, il ragazzo avrebbe uno sguardo di troppo lanciato ad una ragazza licatesa, il suo aggressore gli ha staccato il lobo di un orecchio con un borso, le indagini sono state avviate dalla polizia, un episodio simile si era verificato ieri a San Leone. I gestori di due stabilimenti balneari, uno a Porto Empedocle e l'altro a Bovo Marina sono stati denunciati dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle per non aver ottemperato all'ordine di chiusura del questore Giuseppe Bisogno. Nei giorni scorsi durante un controllo amministrativo della polizia i due esercizi commerciali sono risultati irregolari, nonostante il provvedimento di chiusura le attività erano rimaste aperte. Prime decisioni del Tribunale della Libertà di Caltanissetta per gli indagati dell'operazione antimafia Cerbero, il blitz dei carabinieri lo scorso mese ha portato all'arresto di 27 persone sospettate di appartenere alla Stigre a Cosa Nostra di Mazzarino. Per quattro di esse le ordinanze sono state annullate. Ordinanza di custodia annullata per quattro indagati nell'inchiesta antimafia Cerbero all'esito della quale a metà luglio sono state arrestate 27 persone accusate di far parte o essere vicine ai clan di Cosa Nostra e Stigre di Mazzarino. Il Tribunale del Riesame presieduto dal giudice Alessandra Vella ha annullato l'ordinanza per i mazzarinesi Antonino Perno, Salvatore Pecorella e Maurizio Siciliano come chiesto dal loro difensore l'avvocato Antonio Impellizzeri. Perno era già stato scarcerato in precedenza mentre Pecorella era detenuto e ha lasciato il carcere. Maurizio Siciliano invece nonostante l'annullamento dell'ordinanza rimarrà detenuto in quanto si trovava in carcere dopo essere stato arrestato a dicembre dalla squadra mobile di Caltanissetta nel corso del blitz antimafia Redderazionem. Situazione analoga per Calogero San Filippo ritenuto un componente dell'omonimo clan Stigiaro di Mazzarino. Il Riesame accogliendo le richieste degli avvocati difensori Gaetano Giunta e Agata Maira ha disposto l'annullamento dell'ordinanza di custodia ma San Filippo rimarrà in carcere perché è detenuto per un'altra vicenda. Nel dettaglio Perno, Pecorella e Siciliano rispondono di associazione mafiosa e Perno anche di un episodio di estorsione. Durante il suo intervento davanti ai giudici del Riesame l'avvocato Impellizzeri aveva evidenziato alcune lacune dell'impianto accusatorio sostenendo che non vi sarebbero elementi sufficienti a dimostrare l'appartenenza dei suoi assistiti al clan siciliano che farebbe riferimento a Cosa Nostra. Calogero San Filippo invece è ritenuto un esponente dell'Astigia e quindi anche a lui viene contestato il reato di associazione mafiosa. Gli avvocati Maira e Giunta però hanno sostenuto che negli ultimi anni il loro assistito si trovava all'estero e quindi non poteva in alcun modo aver preso parte alle presunte attività criminali dell'Astigia mazzarinese. I giudici del Riesame ascolteranno le discussioni dei ricorsi presentati dai legali di altri soggetti coinvolti nell'inchiesta ovvero Vincenzo Mannella, Giuseppe Siracusi, Alessandro Alleruzzo originario di Paternò. Quest'ultimo ritenuto l'uomo che avrebbe rifornito di droga il clan Stigiaro di San Filippo è tuttora latitante. Secondo l'accusa Alleruzzo avrebbe fornito ascisce e cocaina in gran quantità. Ad ogni incontro con i San Filippo avrebbe consegnato loro oltre un chilo di droga. Un altro barcone con 312 profughi partiti dalla Libia tra i quali 59 donne e 4 bambini è approdato stanotte a Lampedusa. L'imbarcazione è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia di Finanza e negli ultimi 4 giorni sono sbarcati sull'isola circa 2.600 migranti. Nel centro di prima accoglienza dove vengono ospitati gli extracomunitari in attesa di essere smistati verso altre strutture. Si trovano in questo momento circa 2.000 persone. Il garante dei diritti dei detenuti Salvo Flores ha chiesto al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di verificare la corretta applicazione della legge sulla territorialità della pena e una più attenta valutazione delle traduzioni soprattutto di cittadini extracomunitari che sono trasferiti in Sicilia pur subendo processi in altre regioni d'Italia con notevoli aggravi economici per le casse dello Stato. Salvo Flores afferma 7.800 reclusi in Sicilia a fronte di una capienza di circa 5.500 sono troppi ed è il momento di intervenire perché la situazione attuale non consente una piena applicazione dell'articolo 27 della Costituzione secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Sono stati erogati fondi straordinari stanziati dall'Aggiunta regionale ai pescatori delle Pelagie per i danni causati dall'emergenza migranti. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile infatti quella marineria è stata costretta a effettuare di fatto il fermo pesca. Il governo regionale è subito intervenuto, lo ha reso noto l'assessore regionale all'ambiente Gian Maria Sparma, coordinatore dell'ufficio dell'Aggiunta per l'emergenza Lampedusa che ieri ha incontrato il presidente dell'Associazione Armatori dell'Isola Pietro Billeci il contributo è stato erogato ai sensi della legge regionale 33 del 98. Il governo nazionale e quello regionale dichiarino lo stato di crisi per il comparto agricolo produttore della pesca di Bivona e per le aziende che ricadono nei territori dell'agrigentino di Bivona, le Sandia della Rocca, San Biagio Platani, Palazzo Adriano e Luca Siculo. E' quanto chiede il deputato regionale del PD e sindaco di Bivona Giovanni Panepinto nonostante l'alta qualità del prodotto e lo sforzo e gli investimenti dei coltivatori per arrivare alla raccolta quando le aziende riescono a vendere e ricavano solo pochi centesimi al chilo servono misure immediate a sostegno del comparto, prosegue Panepinto bisogna sospendere e revocare il pagamento dovuto per la fornitura di acqua per uso del riguo e bisogna mettere in campo provvedimenti per ristorare gli agricoltori del mancato guadagno rispetto all'annata 2010. Propongo inoltre che ove sussistano le condizioni conclude si possa avviare il ricorso alla cassa integrazione inderoga per gli imprenditori agricoli e i componenti del nucleo familiare che lavorano nell'azienda. Sul sito internet del Dipartimento regionale delle attività produttive sono stati pubblicati i decreti di approvazione delle graduatorie relative alle imprese di nuova costituzione giovanili e femminili e quello degli interventi a sostegno dell'attività di ricerca e di sviluppo sperimentale i provvedimenti firmati dal dirigente generale del Dipartimento Marco Romano il 9 agosto sono stati registrati dalla Corte dei Conti è inoltre possibile consultare entrambi i provvedimenti di approvazione alle graduatorie dei progetti ammessi e di quelli non ammissibili è sempre il Dipartimento regionale delle attività produttive parteciperà con 30 aziende alla 23esima edizione di SANA Salone Internazionale del Naturale che si svolgerà dall'8 all'11 settembre prossimi a Bologna SANA, manifestazione professionale interamente dedicata al biologico è divisa in quattro macrosettori alimentare, benessere, prodotti per la casa e la vita quotidiana a basso impatto ambientale novità dedicate, nuovi prodotti ecocompatibili divergenza di vedute nell'Udc dopo l'ingresso nella giunta provinciale di Agrigento di Giovanni Nocera espressione dello scudo crociato se il presidente provinciale del partito Marco Zambuto e la responsabile regionale degli enti locali Michele Termini si dicono estranei all'accordo raggiunto con Eugenio Dorsi Lillo Firetto, coordinatore provinciale dell'Udc e Giampiero D'Alia, coordinatore regionale e capogruppo del partito al Senato esprimono apprezzamento per la nomina della neoassessore le diverse prese di posizione nello stesso partito dimostrano come siano necessari dei chiarimenti al suo interno e intanto la prossima settimana l'annuncio ufficiale Vincenzo Corbo aderirà ad un partito dichiaratosi sempre di centro-sinistra stavolta il sindaco di Canicattì darà un nome, un cognome al suo soggetto politico e al referente istituzionale pare che il primo cittadino si sia convinto che per intercettare finanziamenti per la città sia meglio schierarsi Vincenzo Corbo trova casa non è il trasloco in un'abitazione vera e propria quella del sindaco di Canicattì ma un ritorno alle sigle ufficiali della politica in un momento in cui però in Italia i partiti non godono di buona salute dopo la riconferma alla guida di Palazzo di Città con oltre il 60% di preferenze sarebbero stati numerosi i politici a contattare il record man che da solo ha sbaragliato la partitocrazia locale lo scorso mese di giugno così come cinque anni prima il corbismo così ha contagiato o meglio ha allettato la propria casacca al capo dell'amministrazione comunale di Canicattì e Corbo ha detto sì nei prossimi specializzerà la propria adesione ad un soggetto politico una scelta che potrebbe deludere molti suoi elettori avvicinati sia all'uomo e non al politico ma che maturata all'inizio del suo secondo mandato non dovrebbe creare turbolenze tra i suoi alleati anche se ancora non si sbottona Corbo conferma la sua vicinanza al centro-sinistra era l'aprile del 2010 quando il sindaco lasciò il movimento per le autonomie senza però chiudere la porta al deputato regionale della provincia di Grigento Roberto Di Mauro Corbo è stato consigliere comunale democratici di sinistra e nel PD potrebbe approdare in vista di un imminente governo politico alla regione che potrebbe tenere nella giusta considerazione il suo nuovo iscritto con finanziamenti finora inesistenti si spiegano così gli avvicinamenti del sindaco mai formalizzati in questi anni prima nell'Udc e poi nel PDL Sicilie di Michele Cimino e Luigi Gentile episodi e mappature politiche che sembrano lontani anni luce anche se rimane attuale la speranza di mettersi sotto l'ala di un partito protettore ed elargitore di finanziamenti un obiettivo sempre più difficile con una regione ingessata e uno stato centrale costretto dalla crisi planetaria a tagliare su tutto i sindaci vivono queste complicazioni guardando al passato glorioso dei partiti che oggi è solo un pallido ricordo ridotto o un labirinto di inefficienze in provincia di Egrigento ne sanno qualcosa i sindaci di Egrigento e Campobello ad esempio il primo, leader una volta del patto del territorio ha poi passato velocemente all'Udc e ora ha visto flertare con il PDL di Alfano che si sia avvicinato all'ex ministro sono molti a scommettere anche per Michele Termini pure lui Udc, prima Ciminiano il primo cittadino di Campobello però nega l'Udc esclama il miglior partito dell'attuale scena politica italiana il commissario straordinario del comune di Licata Giuseppe Terranova dopo le richieste avanzate dagli agenti di polizia municipale ha sollecitato il sindaco Angelo Gracia a provvedere al pagamento delle spettanze relative al lavoro straordinario dei caschi bianchi il sindaco precisa Terranova consapevole delle legittime richieste del personale ha assicurato che non appena al comune saranno accreditati i fondi dei trasferimenti regionali disporrà la liquidazione di quanto richiesto il consigliere di Italia dei Valori al comune di Milgento Nello Amel in riferimento alle numerose reiterate segnalazioni pervenute dai residenti nella via Ardenco Soffici a San Leone e relative alle emissioni sonore provenienti da locali pubblici presenti nella vicina spiaggia ha presentato un'interrogazione al sindaco e al capo della polizia locale per chiedere di accertare eventuali violazioni del regolamento comunale delle norme a tutela della quiete pubblica nell'interrogazione Amel chiede inoltre di sapere se corrisponde al vero che le emissioni sonore provenienti dai locali pubblici attivi alla via Ardenco Soffici si protraggono oltre l'orario previsto dal regolamento comunale se sono stati effettuati controlli fonometrici per controllare se queste emissioni sonore rientrino nei parametri previsti dalla vigente normativa se sono pervenute segnalazioni sottoscritte dagli abitanti della strada e se queste segnalazioni siano state esitate effettuando i necessari controlli il segretario del PD di Menfi Antonio Ferraro ha lasciato l'incarico e il partito in polemiche con le scelte fatte in ambito locale e nazionale il partito democratico a livello nazionale ha percorso un cammino a ritroso allontanandosi dal partito rivoluzionario e riformista di un tempo afferma Ferraro mentre a livello locale mi sono sentito spesso sopportato e ostacolato più che supportato il mio capogruppo ha votato in contrapposizione ai consiglieri che rappresentava le mie decisioni sono state ignorate e calpestate il partito non ha saputo indicare in occasione delle elezioni comunali i candidati della lista elettorale che potessero rappresentarci coerentemente ha significato privilegiare la quantità alla qualità parte stasera Naro la rassegna cinematografica Naka con la proiezione del film di Pasquale Scimeca Rosso Malpelo la manifestazione inizierà alle 20.30 in Piazza Garibaldi ogni sera fino al 21 agosto prossimo è previsto un film tra Camastra e la Fulgentissima adesso lo sport il keniano Paul Koch ha vinto la diciannovesima edizione del trofeo podistico internazionale Axi Città di Ravanusa tradizionale appuntamento di podismo di mezz'estate in programma come la tradizione il 16 agosto nel centro storico di Ravanusa organizzato dalla Pro Sport e dell'Axi Sicilia l'atleta ha preceduto di 4 secondi il ruandese Felix Sentin Rangania di 29 secondi l'azzurro Giuseppe Gerratana prima della gara top Torgrosso Successo ha avuto la gara amatoriale con quasi 300 partecipanti a vincere e a giudicarsi il Memorial Franca Villa è stato Roberto Bellanca dell'amatoria Aragona mentre a giudicarsi il trofeo Lupa Pansicu che andava alla prima delle donne è stata Maura Tuminelli della Track Club Caltanissetta sentiamo l'intervista realizzata con uno degli organizzatori nel pregara Cosa ci riserva l'edizione numero 19 del trofeo podistico internazionale di Ravanusa? Come al solito un palcoscenico di tutto rispetto nello scenario dell'atletica leggera internazionale lo dimostra la presenza di 5 nazioni proprio all'ultimo si è inserita anche un atleta francese che abbiamo preso all'ultimo minuto mentre nel campo degli amatori sono circa 300 gli amatori che stanno partecipando a questa manifestazione Un appuntamento sportivo consolidato cosa vuol dire il trofeo podistico per Ravanusa? Diciamo che ormai non si può non vare il trofeo podistico città di Ravanusa anche perché una manifestazione un appuntamento del podismo internazionale di mezza estate conosciuto in tutte le gare internazionali non ultimo noi abbiamo distrifato una campagna pubblicitaria forte nel mese di maggio di marzo in occasione della Maratona di Roma Cosa va incontro un appuntamento sportivo come questo con le ristrettezze economiche del momento? Per quanto riguarda gli enti pubblici ristretti anzi ristrettissimi addirittura devo dire quest'anno la totale assenza della provincia regionale di Agrigento ma per fortuna ci sono gli sponsor le persone di buona volontà i volontari che grazie a loro che ringrazio pubblicamente anticipatamente sindora fanno sì che il trofeo internazionale città di Ravanusa tenga sempre la valenza internazionale che l'ha sempre caratterizzato sul versante agonistico quali sono le previsioni? Purtroppo dico purtroppo per gli atleti italiani tra virgolette è dal 2001 che un azzurro non vince il trofeo città di Ravanusa speriamo che quest'anno ci abbiamo due azzurri Gerratana e Brangato che sono in ottima forma speriamo di di far tanto nei confronti del monopolio africano i più temibili rimangono loro gli africani? sì sicuramente il keniano il ruandese sono gli atleti da battere oggi e la greca ha azzeccato il pronostico adesso passiamo al calcio Akragas messa al lavoro dopo un paio di giorni di riposo la rosa messa a disposizione dal tecnico Enzo Montalbano è stata arricchita di un altro elemento di indubbia e capacità tecniche si tratta del trequartista Pasquale Galluzzo Saccenze 22 anni che ha partecipato destando un'ottima impressione in occasione del triangolare giocato lo scorso sabato allo stadio di Seneto con il Favar e il San Giovanni Gemini il ragazzo negli ultimi due anni è stato in forza al Camarat e alla Ribera segnando con quest'ultima ben 12 reti in precedenza era stato ingaggiato dal Foligno in Serie C1 è girato in prestito al Renato Curi Angolana nel torneo di Serie D domani lo si vedrà all'opera in occasione dell'amichevole Collanissa del neotecnico Sasamarra primo allenamento per la rappresentativa grigentina FIGC di Calcio 5 di Mr. Jack Giardina domani pomeriggio alle 17 presso il campetto dell'oratorio Salesiano di Contrada Rovitelli a Canicatti Giardina dovrà selezionare e comporre la squadra che parteciperà al 42esimo trofeo con i Sicilia dal 7 al 9 ottobre prossimi torneo riservato a tutte le 9 province siciliane oltre al Calcio 5 molte altre diverse discipline una vera mini olimpiade regionale con la partecipazione di oltre 1200 atleti riuniti per l'occasione presso la struttura alberghiera di Città del Mare di Terrasini i ragazzi di Mr. Giardina vice campioni regionali in carica dovranno riconfermare la bella prestazione dell'edizione scorsa e con lo sport io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci a